radio bruno siete stati in migliaia a iscrivervi per ospitarci a casa vostra con radio bruno a casa tua abbiamo fatto quattro puntate siamo stati a solarolo da alessandra in provincia di ravenna poi siamo stati da lì c'è formigine vicino a modena poi siamo stati a boretto vicino a reggio emilia da matteo e infine a a ponte d'era in quel della toscana vicino a pisa da andrea è stato una bellissima emozione per noi arrivare direttamente nelle vostre case vi ringraziamo uno a uno per aver partecipato per aver inviato la vostra candidatura simo secondo me radio bruno a casa tua torna presto speriamo ci vediamo presto con radio bruno a casa tua